ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la rubrica racing time si parlerà di sport di motori ad altissimo livello come sempre e come buona abitudine appunto per racing time anche di orologi insomma non voglio pronunciare troppo lascio subito spazio agli ospiti a partire da emanuele citofilo marino che è marketing e communication manager per oblò italia ben ritrovato emanuele grazie di essere con noi e poi naturalmente come sempre a racing time paolo artemi style correre della sera buonasera a tutti i telespettatori ben benvenuto e grazie andrea del questo saluto affettuoso è come sempre naturalmente sempre pronti sempre carichi oblò presenza importante perché lo sappiamo sono anni di grandi risultati di grandi successi nomi ormai arcinotti come il big bang unico come masterpiece come classic fusion le tante iniziative che poi di marketing che stanno passiamo un po il termine manuele stanno facendo la fortuna del marchio blu una fortuna però direi strameritata è chiaro non certo frutto del caso e adesso c'è un impegno non da poco quando si dice sotto gli occhi di tutti del mondo intero io credo che sia proprio vero perché oblò protagonista in un certo qual modo ai mondiali di calcio è davvero qualcosa di grande oblò è è presente nel calcio da da tempo come official timekeeper dei più grandi club europei dei passati campionati nel mondo degli europei di calcio della champions league della wayfaropa league e quest'anno dei mondiali di russia non c'era rimasto praticamente nient'altro posso dire a questo livello all'altissimo livello se non altro bisognerebbe scendere un po e quindi quest'anno c'è stato un boost enorme di visibilità legato al mondo a tutta l'attività legata al calcio il focus del campionati del mondo di calcio per noi sia a livello appunto sul campo ma che anche a livello mediatico è importantissimo abbiamo anche addobbato decorato tutte le boutique nel mondo per dare un focus a 360 gradi su quello che è questo nostro grande impegno Paolo adesso ti cedo la parola però prima vorrei ricordare una cosa tu stavi spiegando l'orologio dedicato agli arbitri che porta poi in un certo senso anche nel suo nome questo evidente riferimento giusto? sì 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 esattamente si chiama big bang referee la cassa è una cassa in titanio che si ispira a quella del big bang è il primo orologio connesso glow ed è una serie limitata a 2018 pezzi chiaramente sono già tutti andati sold out insomma non so quanti arbitri ci sono evidentemente ognuno avanti dicevo del suo 2018 sul mercato esclusi quelli che gli arbitri sono aperti naturalmente sì mi agganciamo questa battuta Paolo perché in effetti sembra che addirittura la FIFA abbia richiesto Oblo però la realizzazione specifica di un prodotto che fosse proprio specifico è dedicato agli arbitri è così devo dire che lui ha già detto quasi tutto di quello che si può dire su questo strepitoso orologio questo smart watch clicchi sulla app che vuoi sapere tutto della partita della Croazia e automaticamente un quarto d'ora prima l'orologio ti informa quello che sta succedendo quando c'è un gol ti dice che c'è un gol ti dice quanti minuti mancano alla fine eccetera eccetera però la FIFA che è molto attenta a questo rapporto che ha con Oblo perché non sembra ma essere certe volte sponsor di un avvenimento mondiale è estremamente importante bisogna ricordare banalmente che ci sono solo tre cose che vengono viste in tutto il mondo contemporaneamente e sono le olimpiadi i mondiali di calcio e la formula 1 altri sport che hanno una visione globalizzata non ce ne sono almeno finora comunque un orologio molto interessante un orologio Oblo che come sempre come si vede qua sono dei pezzi sono delle sculture soltanto che qui abbiamo anche una versione a parte quella degli abiti per i tifosi no che quanto costa questa versione ce ne sono ancora è una tiratura numero limitato non se ne parla proprio Emanuele il campionato del mondo è così perché sono ovviamente in rapido esaurimento appena quasi appena se ne inizia a parlare io credo durante il preordine a Basilea già abbiamo ricevuto preordini più del doppio rispetto alla quantità di orologi che sarebbero poi stati prodotti di questo big bang referee quindi oggi sono assolutamente sold out avevano un prezzo pubblico di 5.100 euro poi sempre a probare di calcio vedo che passa la juventus vedo che passano tutte queste stelle di tutti gli scudenti juventus e vedo che qua c'è una parentela con la juventus e con il calcio italiano che adesso magari forse potrebbe anche arrivare ronaldo se non è già arrivato nel frattempo in casa juventus vedo che la c'è qualcosa con lo stemma di lapo di lapo el can esattamente sì la 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 il link il legame fra blu e l'italia è storicamente molto forte pieno ambasciatore dell'italianità scusata nel mondo e lapo lapo el can con le sue aziende sia garage italia che italia independent qui abbiamo un big bang one click italian independent in velluto velluto grigio che vediamo sia sul quadrante che sul cinturino mentre la cassa in ceramica grigia abbiamo parlato prima delle questi grandi eventi stavi citando nei citati 3 1 e la formula 1 anche in questo caso lo sappiamo la grande il grande e solido legame che unisce blu alla scuderia ferrari di formula 1 in questo senso quali sono un po le ultime notizie emanuele gli ultimi aggiornamenti gli ultimi aggiornamenti sono che stiamo consegnando proprio in questi giorni il primo tech frame in oro bianco il tech frame e l'orologio disegnato interamente da flavio manzoni chief designer ferrari l'anno scorso stato presentato e prodotto per celebrare il settantesimo ferrari infatti sono tutti i tech frame sono tutti in edizione limitata a 70 pezzi ciascuno e ci sono stati in oro in carbonio in titanio adesso lanciamo sul mercato meglio consegniamo sul mercato il primo in oro bianco con cassa in zaffira paolo ferrari formula 1 stagione un po' altalinante si fa fatica a capire dove va da questo campionato mi sembra perché c'è una suddivisione abbastanza equa di vittorie tra ferrari mercedes anche red bull è interessante assolutamente questo lo rende più interessante tu che idea però ti sei fatto perché la ferrari per esempio ci sono dei momenti dove sembra effettivamente prendere in mano proprio le redini della stagione e poi queste redini un po sfuggono qualche volta io mi sono fatto un'idea banalissima quando è iniziato il campionato di formula 1 tutti gli grandi esperti gli addetti quelli che sanno sempre tutto quello c'è che c'è dietro alle scuderie e dentro alle scuderie dicevano che il motore ferrari non sarebbe stato all'altezza del motore mercedes tutti quanti parlavano e ma il motore mercedes arriva a 21 mila giri 20.500 motore ferrari 19.800 però poi sempre lì impiccato tirato vedrai le pole non le faranno più perché non hanno il giro secco eccetera eccetera allora lo scenario fino adesso è un po cambiato le pole la ferrari è tornata a farla i motori mercedes succede si rompono i motori ferrari arrivano anche sei motori ferrari in una stessa gara nei primi dieci posti perché se non mi ricordo male anzi mi ricordo benissimo a zeltwerk in austria sono arrivate seconda e terza ferrari quarta e quinta aas che usa motori ferrari non e decimo toro sauber alfa romeo che usa motori ferrari detto questo è come se sapessi chi vince come vince perché vince e quanti punti fa sarei molto ricco perché avrei mandato avrei fatto un piccolo fondo di investimento per fare però ecco mi piace questo campionato mi piacciono le situazioni in cui si travolgono non mi piacciono gli errori capisco un motore che si rompe capisco meno una scuderia che sbaglia a cambiare le gomme o a cose di questo tipo e forse capisco anche un filino meno quello che si chiama l'ordine di scuderia laddove magari uno arriva che lotta per il mondiale arriva prima dell'altro e sto parlando di mercedes per cui hamilton e verstappen hamilton e bottas mentre invece in ferrari questo ordine di scuderia sembra che non ci sia e non c'è assolutamente alla red bull dove i due piloti ricciardo e verstappen se le danno di santa ragione si scornano proprio regolarmente ringrazio ovviamente gli ospiti che sono intervenuti a questo appuntamento di racing time emmanuele citofilo marino marketing e communication manager rublo italia grazie mille grazie a voi grazie a voi e come sempre paolo artemi sta al corriere della sera grazie andrea e grazie a emmanuele che adesso prende e va in russia a vedersi magari la finale dei affezionati del mondo assolutamente sì per quanto ci riguarda invece l'appuntamento al solito è per la prossima settimana con safe drive motorsport e racing time